Wey! Non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nel negozio di Fortnite! Clicca in basso a destra, supporta un creatore e utilizza il mio codice! XIUDERONE! DAIE! Wey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e oggi ragazzi abbiamo davvero un sacco di cose super interessanti di cui parlare nel video di oggi. Parleremo appunto ragazzi dell'evento che prenderà forse anche il Fortnite europeo. Sto parlando ovviamente del capodanno cinese con tanto di oggetti e nuova modalità. Andremo avanti ragazzi appunto parlando oltre che degli oggetti del capodanno cinese anche di quelli presenti prestissimo in game e non mancheranno un bel po' di leaks per tenervi super super aggiornati con tutto quello che concerne Fortnite. Prima però ragazzi ve lo ricordo sempre, DAIE con i like! Un bel like se vi piacciono i miei video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento, nessuna news. Ma prima ragazzi è la domanda, ci tengo tantissimo, oramai chi guarda i miei video lo sa, ci tengo tantissimo ai vostri commenti qui sotto nella domanda che sto per porvi ed è semplicissima, a che livello stagionale sei arrivato? Diciamo che questa season ragazzi ci dà più possibilità di raggiungere l'ambito livello 100 che vi ricordo vi regalerà uno spray, un adesivo e uno standardo come quello che state vedendo alla vostra destra. Quindi ragazzi qua sotto nei commenti, ditemi un po' a che livello siete arrivati. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare del nuovo quartiere. Lo abbiamo visto già un paio di giorni fa sotto forma di file di texture non ancora renderizzate nei file di gioco, da qualche ora invece è disponibile il nuovo street festival, mi sembra che si chiami se non ricordo male. E voglio intanto mandarvi questa clip, mentre ne parliamo un attimo, come vedete in assoluto tema cinese che va a domaggiare il capodanno appunto cinese. Come vedete, lo vedrete tra pochissimo, sopra di me verso sinistra c'è proprio il maiale perché questo è l'anno del maiale, il capodanno 2019 e devo dire davvero che ci hanno messo un sacco di impegno per creare questo bellissimo quartiere. Eccolo lì, il maiale ragazzi con sotto la scritta 2019, veramente molto molto interessante, secondo me non bello come il campo da football che secondo me era veramente meraviglioso e ricco di dettagli, ma anche qua ci sono un sacco di passaggi, un sacco di cunicoli, negoziati che possiamo visitare, tantissimo materiale che possiamo luttare e ovviamente un bel po' di chest nascosti qui e là con tanto di armi e munizioni. Insomma ragazzi, una bellissima nuova, un bellissimo nuovo block che come vedete è davvero curato nei dettagli e che vi invito ad andare a dare un'occhiata perché merita davvero parecchio, tanta tanta roba per questo capodanno cinese sempre sentito da Epic Games già dall'anno scorso quando hanno inserito la City che c'è tuttora ragazzi, la Prodo avventurato. Ma voglio andare avanti ragazzi e non perdermi via troppo rimanendo appunto a parlare del capodanno cinese ma per quello che riguarda Fortnite cinese, come vedete ragazzi questo è uno screen, un'immagine che è apparsa sulle pagine di Fortnite cinese ed è veramente molto molto bello. Notiamo appunto un sacco di nuove skin, un sacco di nuovi elementi dedicati al capodanno cinese con tanto di Wukong che va ad accendere un petardo a terra e tra l'altro ragazzi questo petardo lo avete visto forse non ci avete ancora fatto caso ma si tratta di uno dei nuovi oggetti. Ma quello che mi preme dirvi ragazzi è quello che sta per succedere tra poche ore nei giocatori, per i giocatori dei server asiatici. Come vedete a loro inizierà l'evento 2 XP quindi quello che di solito noi chiamiamo il 2 per il doppio di punti esperienza ogni partita fatta. Se pensate anche che potete ottenerne una valanga giocata in team beh ragazzi un ottimo modo assolutamente per cercare di rancare prepotentemente e raggiungere oltre che il livello 100 del pass battaglia anche il livello 100 stagionale. La domanda che tutti ci facciamo ovviamente è questo evento con i doppi XP arriverà anche per noi? Bella domanda sinceramente non lo so me lo auguro davvero perché non sarebbe giusto che solo loro lo potranno usufruire e quindi ragazzi appena avremo delle novità ve le diremo di solito arriva nell'ultimo weekend prima del termine della season. Tra l'altro loro hanno anche un sacco di oggetti che potranno vincere proprio giocando i loro giochi dentro Fortnite sempre gli danno tastiere, mouse, cuffie ma questa volta porteranno a casa anche il piccone, il deltaplano del dragone e 1000 V-Bucks ovviamente era solo una cosa che mi interessava farvi vedere ma nei file di gioco ragazzi vi ricordo è presente anche una nuova camo quindi una nuova skin per le armi e per i veicoli come vedete questo è una piccola porzione di codice che si chiama Cosmetics Source Item Shop e ve l'avevo già fatta vedere ma ve la mostro nuovamente davvero molto molto bella a me piace una camo che va a richiamare il dragone ovviamente con i colori classici rosso e oro il problema è che non sappiamo se questa camo sia disponibile per tutti o solo per gli utenti appunto asiatici purtroppo è una cosa che non sappiamo, sappiamo che nei file di gioco ma i file di gioco sono uguali per tutti alcuni li hanno, alcuni non li hanno, io spero davvero con tutto il cuore che sia anche disponibile per noi come sapete io amo tantissimo le skin per le armi ditemi ragazzi qua sotto se vi piace o se non vi piace questa camo così se vi viene in mente ragazzi ma andiamo avanti e parliamo anche dei nuovi oggetti invece ufficiali che abbiamo disponibili già da poche ore nelle notizie di Fortnite, il Falò, ve ne avevo già parlato in un paio di video, lo abbiamo scoperto settimana scorsa Falò che conferma quindi l'arrivo della nuovissima patch, una patch davvero importantissima la descrizione del Falò dice Falò per lustrato trova un rifugio confortevole nelle terre selvagge lo abbiamo anche visto nella schermata di caricamento numero 10 dove c'è il prigioniero appunto davanti a un Falò Falò che potrebbe tra l'altro nascondere la chiave numero 2 tutti, la stiamo aspettando, vediamo se sarà così la patch non sappiamo ragazzi se arriverà oggi nelle prime ore o giovedì sinceramente non ci è dato sapere, di solito quando patchano ci mettono il giorno prima la notifica nella parte bassa della dashboard nella lobby di gioco non sappiamo ragazzi quindi staremo ovviamente a vedere, appena arriverà ci saranno davvero tantissime cose interessanti da vedere e voglio anche parlarvi ragazzi dei fuochi del mortaio, questo si chiama mortaio, ne abbiamo parlato già un po' di tempo fa volete sentire qualche, qualche, lo censuriamo, lo censuriamo, mi faccio sentire qualche, qualche audio del mortaio sentite che roba la tosse la tosse questi ragazzi erano dei suoni del mortazzone quindi il mortaio come sentite sparerà veramente dei razzi non sappiamo però la sua effettiva utilità boh, sarà un'arma, sarà un effetto scenico, servirà magari solamente per una missione no, perché in realtà è nelle missioni, quindi ragazzi il mistero è ancora assolutamente parecchio vi faccio vedere l'ultima immagine che è appunto un estratto del mortaio probabilmente utilizzato come vedete tutti i bocchettoni che contenevano i rocket in questo momento sono vuoti, questo vuol dire che li hanno sparati beh ragazzi le news per oggi sono terminate siete aggiornati con tutto quello che sta per succedere su fortnite vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao